Grazie al professore Palmisano e a tutti gli organizzatori di questo convegno per il loro grande lavoro. Allora, la mia relazione ha ad oggetto un tema notoriamente controverso, cioè quello della rilevanza della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo per il giudice italiano al di fuori dell'ambito di vincolatività inter partes regolato dall'articolo 46 della Convenzione. Si tratta di una materia controversa perché gli indirizzi della Corte Costituzionale sul punto sono caratterizzati da due direttrici, due linee di tendenza, in tensione, tra le quali occorre trovare un equilibrio. Da un lato c'è... Mi scusi, grazie. Ok, rimbomba? Si sente meglio? Dicevo, da un lato la regola generale, mai smentita, è che la giurisprudenza europea riveste in linea di massima carattere vincolante per il giudice italiano. E questo principio trae origine da una affermazione delle sentenze gemelle, secondo cui la Convenzione assume rango di norma interposta come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Ovviamente il modello dell'interposizione normativa non determina solo la tendenziale vincolatività del precedente, ma anche il modo di operare concretamente di un simile vincolo. Questo è già stato ricordato in precedenza. Il giudice ordinario avrà cioè l'obbligo di ricercare un'interpretazione conforme e laddove ciò non sia possibile, la norma interna di forme sarà destinata ad essere spunta dall'ordinamento tramite pronuncia di incostituzionalità. Ma questo, come dicevo, questa è solamente la regola generale, perché l'altra direttrice è che un simile vincolo non è mai stato assoluto. Vero è che una lettura molto popolare delle sentenze gemelle ha voluto scorgere in esse una intenzione di istituire un monopolio interpretativo in capo alla Corte europea. Tuttavia le gemelle in realtà non hanno affermato che l'obbligatorietà del precedente europeo non fosse sottoposta a temperamenti. Una lettura congiunta delle due sentenze consente di ricavare almeno tre casi nei quali la Corte espressamente dice che è permesso di scostarsi da un precedente europeo. E questi tre casi sono il controllo di costituzionalità, cioè della compatibilità con costituzione del parametro interposto, nel nostro caso la giurisprudenza europea, il bilanciamento e la massima espansione delle tutele, quest'ultimo nominato solo dalla 349. Quindi esiste un filo rosso che lega le sentenze gemelle alla giurisprudenza costituzionale successiva e in particolare alla 49 del 2015 sulla quale tornerò e nella quale la Corte ha ammonito i giudici a non diventare, cito, passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove. Il problema è che le gemelle si limitavano per così dire ad evocare dei limiti senza tracciarne con chiarezza i confini ed è con questo problema che la giurisprudenza successiva ha dovuto confrontarsi. Ora, in un primo momento la Corte Costituzionale si è chiaramente limitata a muoversi nel solco delle sentenze gemelle utilizzando per così dire lo strumentario da esse previsto. Per esempio nella sentenza 311 del 2009 essa giustamente riportato il criterio di massima espansione delle tutele all'articolo 53 della convenzione che la 349 curiosamente non nominava secondo questo articolo il diritto convenzionale non prevale su normative interne che prevedano un più ampio livello di tutela di uno stesso diritto. e poi nella sentenza 264 del 2012 la Corte ha per la prima volta applicato il bilanciamento per discostarsi da un precedente, in specie era il caso Maggio contro Italia. Dunque si tratta di un'applicazione degli stessi criteri che erano stati menzionati dalle sentenze gemelle, non invece del controllo di costituzionalità che non è mai risultato in una pronuncia di incostituzionalità della giurisprudenza europea. Ora in questo processo si inserisce la sentenza 49 del 2015 che segna una rottura dalla giurisprudenza precedente per almeno due motivi. Da un lato è il primo tentativo di affrontare la questione in modo organico, individuando dei criteri applicabili a tutte le situazioni. E in secondo luogo scompaiono in questa sentenza i criteri di natura sostanziale del bilanciamento e della massima espansione delle tutele. Dei tre menzionati dalle sentenze gemelle resta in realtà solamente il controllo di costituzionalità. Questo perché la Corte ha affermato, e questo è cosa nota, che siano idonee ad integrare parametro interposto solo le decisioni della Corte europea che esprimano diritto consolidato e le sentenze pilota in senso stretto. Ed ha anche fornito alcuni indici idonei ad orientare il giudice a distinguere tra diritto consolidato e non consolidato che nella specie sono uno la creatività del principio affermato dalla Corte europea, due eventuali contrasti interni alla giurisprudenza della stessa, tre la presenza di opinioni dissenzienti, quattro il fatto che la decisione promani da una sezione semplice e non dalla grande camera e cinque l'esistenza di tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale che la Corte di Strasburgo non avrebbe apprezzato a sufficienza. Il ricorre di queste condizioni insomma non sarebbe determinante ma indirizzerebbe il giudice nella scelta in merito alla vincolatività del precedente. Ora nel valutare questo indirizzo occorre distinguere tra il risultato che la Corte intendeva raggiungere e il modo in cui ha scelto di farlo. Dal lato va notato che il risultato era del tutto ragionevole e per comprendere il motivo bisogna ricordare brevemente le circostanze di fatto. Si trattava degli effetti della sentenza varvara contro Italia nella quale anche questa cosa nota la Corte europea aveva sancito anche se in termini non del tutto inequivoci l'illegittimità dell'istituto della confisca urbanistica in assenza di condanna penale in senso formale e ciò entrava in apparente contraddizione con quanto sostenuto all'epoca dalle corti italiane che ritenevano legittimo questo istituto purché ci fosse stata una piena, un pieno accertamento giudiziale della responsabilità del soggetto. La Corte Costituzionale era stata investita di due questioni parallele ma entrambe utilizzavano varvara come parametro interposto ma in una il giudice rimettente dubitava della costituzionalità o meglio dubitava della conformità con varvara della normativa interna come interpretata dalle corti italiane e l'altra questione invece dubitava della costituzionalità di varvara nei confronti di alcuni principi della Costituzione italiana ma il problema è che entrambe le questioni se accolte avrebbero prodotto dei risultati insoddisfacenti per non dire assurdi perché si era in attesa di un chiarimento sul punto da parte della Grande Camera chiarimento che poi in effetti è arrivato con il recente caso GM ed altri contro Italia nel quale la Grande Camera di fatto sconfessando almeno in parte varvara ha fatto salvo l'istituto della confisca urbanistica in assenza di condanna sostanzialmente alle condizioni ammesse all'epoca dalle corti italiane quindi la consulta aveva ottime ragioni per adottare una tattica per così dire attendista a tal fine ha negato che varvara potesse integrare parametro interposto quindi le ha permesso questa decisione di dichiarare inammissibili entrambe le questioni ma ciò che invece ha ricevuto critiche praticamente unanime in dottrina sono stati gli argomenti avanzati dalla corte per discostarsi dal precedente per motivi di tempo mi concentrerò sul concetto di giurisprudenza consolidata che dovrebbe essere il cuore della mia relazione ora i problemi che questo concetto solleva sono essenzialmente due il primo è che molti degli indici nominati dalla consulta sono scarsamente condivisibili nel merito il secondo è che indipendentemente da cosa si pensi della loro persuasività essi si sono rivelati per nulla direi risolutivi nella giurisprudenza successiva ora quanto al merito la nozione in esame ruota come visto intorno a criteri di natura essenzialmente formale innovatività del principio, opinioni dissenzienti, composizione dell'organo giudicante e così via ora la dottrina ha immediatamente sottolineato l'inadeguatezza di questi criteri in primo luogo il carattere isolato o la carica innovativa di una pronuncia non ne attenuano la persuasività o la pertinenza a incidere sulla decisione di un caso semmai può essere vero il contrario, cioè che una decisione più risalente che non è stata ancora rivista alla luce di nuove tendenze che le si riconosca a minor valore in secondo luogo le sentenze della grande camera non possiedono una forza vincolante superiore a quella delle camere l'intervento della grande camera in effetti è riservato a casi eccezionali in cui vi sia un contrasto giurisprudenziale oppure che sollevino questioni di diritto di particolare rilevanza quindi possono ben presentarsi dei casi in cui la mancata pronuncia da parte della grande camera è indice del fatto che non c'è un contrasto giurisprudenziale quindi proprio che un indirizzo è consolidato e ancora la presenza di opinioni dissenzienti è una questione chiaramente interna al funzionamento della Corte che non incide sulla vincolatività delle sue decisioni tutti questi rilievi, questa è la cosa più importante hanno trovato conferma nel caso GM ed altri contro Italia nel quale la Corte Europea ha in un certo senso risposto metto tra virgolette, molte virgolette alla Corte Costituzionale affermando che tutti i suoi precedenti possiedono il medesimo valore giuridico e la loro autorità non dipende dalla composizione del collegio che li ha resi paragrafo 252 quindi abbiamo elementi sufficienti per concludere che la nozione di giurisprudenza consolidata come elaborata nella 49 si colloca al di fuori del funzionamento del sistema CEDU in dottrina alcune voci meno critiche della 49 hanno obiettato che il concetto di giurisprudenza consolidata non era destinato a delimitare la vincolatività della giurisprudenza europea in modo rigido ma solo a fornire delle linee guida flessibili da calibrare in relazione al caso concreto ma anche a volere accogliere questo rilievo ciò si scontra con un secondo problema cioè quale sia la reale utilità pratica di una nozione così elaborata e se si guarda alla giurisprudenza posteriore alla 49 si evince che questa nozione non ha apportato praticamente alcun chiarimento ed ha finito nella sostanza per essere abbandonata e si pensi alla sentenza De Tommaso contro Italia già nominata ora ricondurre questa decisione nell'alveo degli indici elaborati dalla sentenza 49 si è subito rivelato problematico per i giudici ordinari perché da un lato si trattava di una decisione della grande camera quindi indice di obbligatorietà però dall'altro lato il principio che essa enunciava era certamente isolato e di contenuto innovativo per così dire indice di non obbligatorietà cosa fare in presenza di indici contrastanti la 49 non lo diceva e in effetti l'applicazione dei suoi criteri poteva strattamente portare a qualsiasi risultato e così è stato nella giurisprudenza di merito in un primo momento fino alla sentenza Paternò anch'essa ricordata del 2017 in cui le sezioni unite hanno interpretato la normativa interna il codice antimafia alcune disposizioni del codice antimafia in conformità con De Tommaso e il modo in cui la Cassazione ha risolto il problema mi sembra molto rivelatore cioè essa non ha nemmeno menzionato i requisiti fissati dalla 49 e nemmeno la stessa nozione di giurisprudenza consolidata e ancora più rilevante è che la stessa Corte Costituzionale abbia finito per adottare sostanzialmente lo stesso approccio nella decisione 43 del 2018 in materia di nebbissinidem essa ha considerato senza preoccuparsi di motivare in maniera particolare questa scelta ha considerato idonea integrare parametro interposto una pronuncia della grande camera espressamente qualificata come innovativa si trattava di A e B contro Norvegia senza confrontarsi affatto con gli indici elaborati dalla 49 e ancora più interessante è la sentenza 25 del 2019 anche essa oggetto di spoiler da parte del professor Villani dove la Corte ha avallato la pronuncia della Cassazione in paternò e ha dichiarato incostituzionali le norme in questione del codice antimafia ora qui il criterio di diritto consolidato è stato solo menzionato en passant ma di fatto svuotato di portata e interessante la Corte ha insistito su altri criteri che come detto prima la 49 nemmeno nominava cioè i criteri della massima espansione delle tutele e del bilanciamento quindi la profezia è azzardata ma all'azzardo mi sembra che la parabola della giurisprudenza consolidata possa dirsi compiuta nella giurisprudenza della Corte Costituzionale o perlomeno sul viale del tramonto ovviamente questo lascia aperto il quesito a cui la 49 con tutti i suoi limiti aveva tentato di dare una risposta cioè se sia possibile inquadrare il rapporto tra diritto interno e giurisprudenza europea in una cornice organica e in effetti direi che è proprio nelle recenti sentenze della Corte Costituzionale che si rinvengono le basi di una soluzione alternativa il punto cruciale è che la Corte ha cessato del tutto di richiamarsi a criteri meramente formali e invece ha invocato criteri di tipo sostanziali per l'appunto la massima espansione delle tutele e il bilanciamento e qui il discorso cambia radicalmente perché questi criteri non sono esterni al sistema CEDU ma ne costituiscono in qualche misura parte integrante ora è cosa nota che nel sistema convenzionale il valore del precedente si colloca a un livello intermedio tra vincolatività e mera persuasività questo perché da un lato a norma dell'articolo 46 una decisione obbligatoria solo inter partes la Corte europea non è vincolata formalmente ai propri precedenti però dall'altro lato fin dalla nota sentenza del 1990 Cossi contro il Regno Unito la Corte ha rutinariamente affermato che essa si conforma ai propri precedenti salvo che non vi siano adeguati argomenti che suggeriscano il contrario questo schema con i dovuti aggiustamenti regola anche il valore del precedente europeo dal punto di vista dei giudici interni cioè vi è una tendenziale esigenza a conformarsi a questi precedenti per evitare future condanne ma le autorità nazionali possono discostarsi da un precedente europeo se sussistono adeguati argomenti il sistema CEDUV ha ricordato non mira all'assoluta uniformità nella tutela dei diritti come dimostrato per esempio dalla dottrina del margine di apprezzamento quindi la domanda è quali argomenti possono dirsi adeguati a questo scopo ora dal punto di vista del diritto convenzionale le regole di ingaggio per così dire l'espressione è un altro settore ma è del già ricordato Mattias Cum le regole di ingaggio sono piuttosto chiare in primo luogo opera il principio di massima espansione delle tutele la convenzione stessa lo prevede ma questo principio ovviamente opera quando vi sia solo uno stesso diritto in discussione non quando più diritti siano in discussione quando più diritti sono in discussione vi è in realtà la possibilità di operare un bilanciamento la stessa Corte Europea mostra particolare rispetto per il ragionevole bilanciamento operato dalle corti interne e non potrebbe essere altrimenti perché la Corte Europea decide sempre sulla base delle circostanze del caso concreto e soprattutto dinanzi a essa solo i ricorrenti e lo Stato sono rappresentati quindi le corti interne si trovano in una posizione istituzionalmente migliore per contemperare gli interessi di tutte le parti interessate e anche della collettività del suo complesso dicevo il fatto poi che la Corte decida sulla base delle circostanze del caso concreto chiedo scusa lascia ovviamente ampio margine ai giudici nazionali per discostarsi da un precedente facendo leva su diversità di circostanze di fatto e questo è particolarmente rilevante quando il precedente riguarda uno Stato diverso ovviamente da quello di nazionalità del giudice cosa hanno in comune questi criteri queste regole di ingaggio hanno in comune che in tutti questi casi l'autorità nazionale deve essere in grado di dimostrare che discostandosi dal precedente essa è stata in grado di raggiungere una soluzione più giusta nel caso concreto cioè sono tutti quanti argomenti di natura sostanziale e non invece meramente formale a questi poi si aggiunga il fatto che ovviamente laddove esista un contrasto interno alla giurisprudenza della Corte europea i giudici nazionali sono chiamati per forza di cose a mediare tra i diversi orientamenti se del caso anche a scegliere quale seguire ma qui il discorso non cambia i criteri guida in merito restano quelli di natura sostanziale ora come si vede gli elementi per ricostruire in maniera corretta il valore interno del precedente europeo sono già presenti nella giurisprudenza italiana e hanno anzi rivestito sempre rilevanza prevalente nella giurisprudenza italiana a parte la parentesi rappresentata dalla 49 essi però convivono con un diverso filone giurisprudenziale che si affida ad argomenti puramente gerarchico formali che si collocano al di fuori di questo meccanismo perché non sono diretti a ricercare la soluzione più giusta nel caso concreto quindi vorrei parafrasare quello che ha detto la professoressa Lamarck prima concludo, mi scusi concludo rapidamente cioè che in materia la corte costituzionale ha sostanzialmente già detto tutto quello che doveva dire il problema semmai la questione problematica che si staglia davanti alla consulta è quello di trovare un modo per dare una veste organica a questo meccanismo una possibilità potrebbe essere mutuando dalla giurisprudenza britannica e tedesca quella di applicare il meccanismo del cosiddetto taking into account approach oppure prendere in considerazione cioè rendere il vincolo alla giurisprudenza europea un vincolo in principio procedurale cioè il giudice interno avrà sempre l'obbligo di prendere cognizione di tutti gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza europea ma potrà discostarsene solo facendo leva su argomenti di natura sostanziale argomenti che nella prassi delle corti britanniche si distinguono in tecniche affini all'overruling o al distinguishing a seconda che il giudice contesti il merito della decisione o faccia semplicemente leva su una diversità delle circostanze di fatto conclusione spot che concludo vi è un ulteriore vantaggio in questo approccio e cioè esso ha le maggiori chance di innescare fenomeni di dialogo con la corte europea e se del caso a indurla ad un ripensamento si pensi ancora una volta a GM ed altri contro Italia qui la corte come dicevo ha sostanzialmente sconfessato la sentenza della camera in Varvara ma questo attraverso una riconsiderazione nel merito delle argomentazioni sostanziali e non per il suo carattere per il carattere di Varvara non consolidato quindi credo che la lezione che si possa trarre dalla vicenda culminata in questa decisione è che sono gli argomenti sostanziali a far presa sulla corte piuttosto che argomenti formalistici incardinati sulla prevalenza gerarchica del diritto interno sulla convenzione europea questo ovviamente deriva dal fatto che il sistema dell'acedo è naturalmente indirizzato a perseguire esigenze di giustizia sostanziale grazie applausi grazie applausi 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 Grazie a tutti.